24 settembre 2018, ultima settimana di questo caldissimo mese di settembre, una la cross ball e un elastico per iniziare il nostro riscaldamento di oggi. Più precisamente useremo questa per mobilizzare il petto, useremo questo per mobilizzare le spalle e poi faremo un altro esercizio che è lo standing resistance dislocation, tutti e tre li trovate sotto nei link. Dopo questo riscaldamento incentrato principalmente sulle spalle faremo un altro esercizio con il quale facciamo lavorare le spalle, ovvero sia andremo a costruire cinque ripetizioni di handstand push up con deficit, se non avete questo esercizio lo potete naturalmente scalare chiedendo al vostro trainer qual è la progressione migliore per voi. Abbiamo il WOD poi del giorno il 16-4, oggi un WOD di original, quindi 13 minuti unwrap, 55 deadlift, 55 wall ball, 55 caloriero, 55 handstand push up, tornano anche adesso. Per quanto riguarda i carichi gli avanzati e gli intermedi lavoreranno con 170 kg, mentre invece i beginners lavoreranno con 60 e 40 kg, una palla da 6 o da 4 kg e al posto degli handstand push up faranno dei normalissimi push press utilizzando 15 o 10 kg, due dumbbell naturalmente. A domani, martedì! ciao!